Una rotatoria a doppia goccia per risolvere l'annoso problema della viabilità nella zona di via dei Salicchi e del cosiddetto saliscendi che porta al ponte di Monte Sanquirico. È questa l'ipotesi progettuale che il Comune ha individuato in collaborazione con l'Università di Pisa e che prevede, tra l'altro, l'inversione del senso unico di marcia in via Matteo Civitali, che non sarà più percorribile da via del Brennero. Un cantiere che avrà un costo complessivo dei 400.000 euro e che potrebbe essere modificato, in parte, con l'apertura del ponte sul Serchio e del nuovo asse suburbano. L'opera, una volta realizzata, secondo le prime stime, potrebbe ridurre il tempo di attesa in auto all'intersezione da 3 minuti a 20 secondi. Vorremmo partire a inizio estate del 2024 perché abbiamo visto che su quell'area oggi ci sono molti cantieri. Quindi vorremmo far finire le scuole, una volta terminate le scuole, iniziare i lavori per poi, in modo da finirli, entro l'inizio dell'anno scolastico 2024. Grazie a tutti.